ciao a tutti ragazzi adesso mi trovo qui a castelnovate zona castelnovate una spiaggia che dicono che una spiaggia di nudisti ma adesso non c'è nessuno e niente il posto è questo ci sono delle isolette delle piazzole di adesso c'è l'acqua alta comunque il posto è questo è un po più avanti c'è un isoletta sempre per sentito dire è l'isoletta dei nudisti e dirà in questa isoletta si fa qualcosa che boh è un'incognita adesso arrivo di là ecco questo qua è la piccola spiaggia tutte le isolette in quell'isoletta di là però addirittura di là dove si appartano le coppiette e qui dove ci si sta il fresco sono tutte le varie i vari punti di ritrovo comunque c'è sempre una bella vista qui siamo comunque sul ticino ok ciao ragazzi ciao